Giorno di Ferragosto, oggi siamo in Ecclesi, oggi no? 15 giorni a Ferragosto, ha piovuto che Dio la manda e c'è un problema in casa baseggio, non casa mia, casa dei miei e per fortuna abbiamo qua dei bandi aiutanti giovani che stanno svuotando tutto, l'anno domini è in 2014, Barbara mi sta mandando al diavolo e adesso svuoteremo un po' la volta.